...e che metta in atto il mio programma di maggiore commissione e rispetto sociale, se non potremmo essere facile... Ci sarà un... L'eredità, 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 c'è qualcosa che... Vabbè, ma non metti... Dà un'idea che qualcosa la migliora... Vieni dalla parte mia... Al nostro paese lascia solo le macerie, così... C'è sempre quando vengono buttati fuori... Macerie che dobbiamo ricostruire... E noi che abbiamo contribuito in modo determinante... La nostra forte opposizione... A mandare a casa... Ecco Di Pietro che fa... Inizio... E celebra la sua... Personale Piazzale Loretti... Fuori... Il pubblico... Quello delle monetine... Come nel giorno della caduta di Craxi... E li organizzate in via del prossimo... Non sono tanti... Ma persino nel giorno delle dimissioni... Sono lì che urlano... Dimissioni... Dimissioni... Ecco qui... La clacca... Che era preparata... Per il gran finale... Ecco la folla che acclamma di Pietro... Ecco qui... Era proprio una clacca... Tutto organizzato... Con le telecamere... Signori... E' così che si fa la solidarietà nazionale... La clacca... Che... E' così che... Che... E' così che... Questo... E' così che... E' così... Vedi Giavo, Santaglio!